Il film Ahmed Mack Saga Furiosa è interessante probabilmente perché ha una sua filosofia, in certo qual modo già ricorda il senso di quello che dice Hobbes, homo homini lupus o bellum hominium contra homnes, cioè homo homini lupus, uomo e lupio verso gli altri uomini, bellum hominium contra homnes è la guerra di tutti contro tutti. Ecco si parla infatti in Furiosa di una realtà distopica dove ci sono le cosiddette guerre tra gruppi o si potrebbe dire guerre tra bande, la cosa interessante tuttavia perché non si può definire mondo anarchico, anarchia significa assenza di dominio. Ecco in fin dei conti tuttavia il dominio esiste ovvero sia nel mondo di Furiosa esistono diversi tipi di gruppi, diversi tipi di bande, diversi tipi di aggregazioni di esseri umani, di individui che comunque si sviluppano un certo tipo di diritto. Ovviamente questo diritto concerna il fatto sociale, questo è un altro punto molto interessante probabilmente perché se guardate il film Furiosa è interessante notare come è vero che in ogni tipo di gruppo esiste comunque sia una gerarchia fondata su il dominatore e poi su tutti gli altri. Quindi ci sono appunto i suoi sottoposti fino ad arrivare ai sottoposti si potrebbe dire più importanti, ai sottoposti quindi più elevati, di ranghi più elevati, ai sottoposti di ranghi meno elevati, meno importanti. La questione oltretutto concerne appunto il conflitto per la scarsità delle risorse, questo è un altro punto interessante, ovvero sia sono tutti alla ricerca delle risorse e infatti il film per esempio Furiosa si sviluppa anche nella ricerca di quella che è cosiddetta chiamata e della zona da cui proviene Furiosa, zona di abbondanza tale per cui appunto in questo mondo distopico è praticamente quasi tutto deserto, anzi è tutto deserto se non appunto una zona dove cresce un certo tipo di natura, c'è appunto, c'è stato il mantenimento della natura in sé per sé, di un certo tipo di flora, di un certo tipo di fauna e pertanto la vita lì ha in certo qual modo continuato a mantenersi così come la conosciamo noi oggi, prima appunto della distopia di quel mondo. Ecco che la cosa interessante, probabilmente perché tutti in certo qual modo vogliono tendere a quella realtà più per loro utopica, cioè quella realtà da cui proviene Furiosa, da cui poi lei sarà rapita da bambina, in quanto poi è realtà assolutamente scarsa. Ma se poi andiamo ad analizzare la realtà per com'è all'interno del mondo Furiosa, ci accorgiamo appunto che questo interessante sembra, da un certo punto di vista, per prenderla, per generalizzare molto, una realtà simile a quella delle polis greche, dove c'è conflitto continuativo tra i diversi gruppi. La grande differenza tuttavia che si può identificare tra le città-stato greche rispetto al fin Furiosa è che in realtà mancano gli dèi, cioè manca il sacro. Allora, ciò che concerne un certo tipo di connessione è la conquista delle terre e l'acquisizione delle terre, come in certo qual modo avveniva durante l'antica Grecia, ovvero sia bande di gruppi, sulla base di un certo tipo di diritto che essi stessi si riconoscono tra loro come interno alla loro banda, si accordano e sviluppano un certo tipo di reciprocità riconosciuta all'interno di quel gruppo, ma solo all'interno di quel gruppo, per l'acquisizione di risorse di altri gruppi esterni. Nell'antica Grecia, per esempio, ciò avveniva per l'acquisizione delle terre, o anche acquisizione in certo qual modo di ricchezze. Soprattutto, soprattutto si pensi anche allo sviluppo dell'etarcaica da parte degli aristocratici. Tuttavia, manca in questo mondo una modalità di credo, di sacro, che è relegata al senso della divinità. Infatti, in realtà, non esiste un senso di metafisica in sé per sé, in Furiosa, tale per cui gli uomini, nel mondo di Furiosa, tale per cui gli uomini preghino qualcosa che essi stessi reputano più elevata. E qui arriviamo al concetto di diritto. Infatti, questo tra l'altro, si può collegare anche al tema dell'inattualità del liberalismo. Quando John Locke parla, nell'età moderna, di diritto inteso come esiste un diritto antecedente alla società, inteso come diritto naturale, o gius naturalismo, tale per cui esiste una dignità umana universale, che coinvolge tutti gli esseri umani ancora prima che entrino in società. Per Locke questo si chiama stato di natura. Cioè, nello stato di natura, gli esseri umani hanno comunque diritto sulle proprietà, diritto sui loro averi, diritto del lavoro che producono. E una dignità universale già di per sé riconosciuta. Ecco, nel mondo di Furiosa, ciò non è affatto scontato, anzi, per nulla scontato. Anzi, ancora di più, nel momento in cui tu comunque lavori qualcosa e produci, in realtà, gli altri te la possono comunque rubare. Anzi, in fin dei conti, te la rubano perché non ti riconoscono nel loro gruppo d'appartenenza. Nel momento in cui non ti riconoscono nel loro gruppo d'appartenenza. E questo è molto interessante perché, in fin dei conti, ci parla di un mondo che è tendente alla riflessione che Thomas Hobbes fa. Ovvero sia che si concilia con il tema dell'interesse. Tale per cui, l'umano, in certo qual modo, si lega a un certo tipo di conflitto, che è poi quel conflitto che concerne, da un certo punto di vista, il tema dell'interesse privato o personale, che poi, attraverso un'aggregazione, attraverso un'aggregazione di gruppo, già che c'è un collegamento tra i diversi interessi, vuole giungere, quindi, a spogliare il prossimo, ad acquisire, in questo caso nel mondo di Furiosa, i beni del prossimo per la sussistenza, per, in certo qual modo, un certo tipo di approvvigionamento che si possa mantenere. C'è comunque da dire che gli accordi vengono istituiti, infatti, tra diverse bande, quando ci sono i casi cosiddetti di necessità, esiste un certo tipo di, questo si chiama appunto diritto, tale per cui, quando appunto si vuole evitare un certo tipo di conflitto, per esempio nel film Furiosa questo avviene, tra specificatamente due, si potrebbe dire, bande, non vi spoilerò, però l'idea è che, quando si vuole evitare un certo tipo di guerra, un certo tipo di conflitto, che può essere anche continuativo, ecco che avviene un certo tipo di scambio di risorse, o di scambio di beni, o di scambio di soggetti, che possono essere ritenuti utili all'una e all'altra banda, e quindi si sviluppa un certo tipo di compimento dell'accordo. Questo è molto interessante, probabilmente perché ci spiega che, da un lato, la concezione nel mondo di Furiosa, l'occhiana, non esiste in sé per sé, perché manca, tra l'altro, la figura, e quindi interessante, di Dio. Il concetto giusto naturalista l'occhiano della dignità umana avrebbe senso nel momento in cui esistesse un sacro superiore a tutti gli esseri umani. E qui, infatti, esiste la concezione del gruppo come sottomesso alla modalità della metafisica di intendere un certo tipo di vita, se potrebbe dire vita etica. Ecco, nel mondo di Furiosa questo manca, perché non esiste l'entità metafisica, tale per cui, se non esiste un Dio, o non esiste un Dio generale, monoteista si potrebbe dire, che produce un bene oggettivo, allora gli esseri umani, in tal senso, non possono intendere, in quanto loro non lo supportano, un certo tipo di etica oggettiva, di comportamento, che possa comunque mediare ciò che loro attuano. Questa sarà la tesi, soprattutto poi, di Locke, si potrebbe dire, cioè l'idea della modalità, in questo caso Locke giudaico-cristiana, di intendere un certo tipo poi di etica che si sviluppi all'interno del diritto che fonda poi il contratto sociale. Quindi un bene, in certo qual modo, oggettivo, cioè una morale oggettiva, che tenga sulla base poi di un contrattualismo, che in certo qual modo già esisteva sulla base di un diritto antecedente che è quello del giusnaturalismo. Ma nel mondo di Furiosa, in un mondo dove manca comunque il sacro, in un mondo dove manca l'universale, inteso come Dio, che produce il diritto e che mi dà il contratto alismo, nel senso l'occhiano, chiaramente non ci può essere un bene oggettivo. Questo è interessantissimo probabilmente perché, attenzione, se facciamo una riflessione su perché gli individui agiscono nel mondo di Furiosa, e si agiscono in fin dei conti sempre sulla base di scelte di stampo economico o scelte di stampo di comando. Questo è un altro punto interessante, cioè a nessuno nel mondo di Furiosa interessa in fin dei conti il sacro o interessa di cercare un diritto oggettivo sulla base di evitare il più possibile il conflitto per creare quindi questo diritto metafisico che tenga per evitare un conflitto sempre più di interessi. Il diritto nel mondo di Furiosa e sociale è estremamente obsiano, coinvolgendo sempre il conflitto, e, d'altro canto, si fonda sulla modalità degli interessi che tra loro si sviluppano, inteso come scarsità del reale, che nel mondo di Furiosa è estremamente importante, tale per cui tutti vogliono riuscire a sussistere in sé per sé, e coloro che non sono i comandanti e i dominatori vogliono riuscire a mostrare di fare bene per i loro comandanti e i loro dominatori, togliendo ogni tipo di morale oggettiva per essi stessi, su base del fatto che eseguono ordini per riuscire a scalare i ranghi, a scalare le gerarchie e a diventare loro i bracci destri dei dominatori e dei capi, riuscendo quindi a stare meglio nella loro condizione di vita, in quanto appunto, se scaleranno questa gerarchia, riusciranno quindi ad essere considerati migliori rispetto al peggiori di quello che, in certo qual modo, erano prima. Questo è interessante perché in realtà esiste una figura che, alla fine, è molto diversa, in fin dei conti tuttavia, da tutti costoro, che è proprio Furiosa. Perché Furiosa, e questo lo si vede benissimo quando lei si oppone all'antagonista principale, vediamo che Furiosa attua i suoi obiettivi, sviluppa i suoi comportamenti per, in certo qual modo, fare giustizia o fare vendetta, forse, molto probabilmente, nella prima parte sarà più fare vendetta, poi nella seconda parte più fare giustizia, almeno, guardate il film, ma a mio parere così, nel momento in cui essa vuole, in certo qual modo, vendicare o comunque giustiziare, fare giustizia sulla modalità in cui è stata davvero trattata, ma, d'altro canto, perché il cattivo di turno, il cattivo, naturalmente, secondo la sua idea, perché non esiste poi un cattivo oggettivo in quel mondo, le ha ucciso la mamma e l'ha portata via, o comunque i suoi sgheri l'hanno rapita, dal posto verde in cui stava da piccola. Quindi le hanno per lei distrutto la vita. Nel momento in cui lei se la prende con lui, soprattutto alla fine del film, lei dice che vuole riavere la sua mamma, lei dice che vuole riavere la sua famiglia, in certo qual modo, lei dice che vuole riavere ciò che aveva in passato. E il cattivo di turno le dirà, tu non potrai riavere tutto ciò, anche se continuerai a continuare a tirare i cazzotti. Tu non potrai riaverle, queste cose. Non potrò dartele, non potrò ridartele. Questo è interessante, perché Furiosa mostra, in quel momento, che il suo obiettivo era, in fin dei conti, in certo qual modo di stampo metafisico. Cioè l'idea di voler riavere ciò che non aveva. E l'idea quindi di poter tendere a un certo tipo di eternità, o di continuatività che in quel mondo non esiste, perché è un mondo fatto di scarsità continuativa e di guerra continuativa per riuscire a risolvere quella scarsità. E nessuno, nessuno dei protagonisti, a parte Furiosa, nessuno dei personaggi, è interessato a cercare di riflettere la sua relazione tra ciò che ha perduto come famiglia e quel mondo per cercare di migliorare in certo qual modo la sua condizione personale. La vita etica, nel mondo di Furiosa, non esiste più. È perduta. E in certo qual modo sembra in verità che proprio lei ci pensi, cioè ci rifletta. Dal più, quindi, collegandola al senso dell'obiettivo, al senso della protagonista. L'etica di Furiosa è infatti quindi, da un certo punto di vista, un'etica estremamente personale. Cioè, lei non agisce per degli obiettivi per riuscire a sviluppare delle gerarchie, cioè a salire le gerarchie per essere il braccio destro di capi e per stare all'interno di quel diritto societario del capo per mantenersi in vita. Lei vuole riuscire a riavere ciò che ha perso. Lei vuole riuscire a riavere la sua famiglia. O, tutt'al più, lei vuole riuscire a vendicarsi o a fare giustizia rispetto a ciò che è capitato alla sua famiglia. Quindi è interessante notare come per quanto anche Furiosa cerchi in questo mondo di riuscire, in certo senso, a scalare i ranghi, lo fa sempre come obiettivo secondario, mai primario. L'obiettivo primario di Furiosa è infatti quello di riuscire, da un lato, sì, ovviamente, come essere che deve sussistere in un mondo difficile, abbarcamenarsi, nel reale che gli pone di fronte delle difficoltà, quindi, chiaramente, il rapimento, chiaramente, il senso di scarsità che tutti avvertono, chiaramente, il senso di guerra, dovrà imparare a difendersi, dovrà imparare ad essere in certo qual modo addestrata, dovrà imparare le leggi, le regole di quel mondo, ma questo non significa che essa stessa non possa poi riproporsi e pensare a ciò che gli è più caro e, in questo senso, alla fine, eviterà anche di uccidere il suo più grande nemico, imponendogli, invece, un certo tipo di pena, una pena che sarà quella pena che continuerà a soffrire per la vita, un po' come Prometeo per quanto concerne la questione di Zeus che Promete rubò a Zeus il fuoco degli dei, lo costringerà attaccato a un certo tipo di pianta. Questo è interessante probabilmente perché ci fa riflettere sull'idea anche del fatto che Furiosa non aveva forse mai avuto l'intenzione di vendicarsi ma di fare giustizia su ciò che gli era stato portato via e su ciò che lei voleva sempre recuperare. La modalità quindi è l'indice di stampo metafisico. Ciao.